E' tanto più odioso quando le divisioni nascono invece sul genere e il corpo della donna viene messo in un'immagine che la rende un oggetto e allora poi lì sì, quello che tante volte la presidentessa Boldrini... Presidente! Presidente! Siamo attenti al linguaggio oggi almeno! Presidente! Beh perché presidentessa non si può dire! Non è bello! Non è bello!